A Pisciotta, nell'incantevole piazzetta dei Caduti, si è svolta la cerimonia della consegna delle benemerenze per le meritevoli attività di soccorso in mare svolte durante le operazioni spiagge libere sicure del litorale del comune di Pisciotta. Indelebile dimostrazione dell'impegno qualificato nell'ambito delle operazioni di soccorso in favore dei bagnanti e fruitori delle predette spiagge sono stati premiati dal sindaco Ettore Liguori con diploma di benemerenza per l'ufficio circondariale marittimo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Palinuro, il primo luogotenente Massimo Angeloni, il capo di seconda classe Luca Montefusco, il sottocapo di prima classe Ivan Marotta e il sottocapo di prima classe Maurizio De Santi. Infine i bagnini della Società Nazionale di Salvamento di Mantova con il presidente Massimo Zanichelli e con gli operatori Giovanni Marsicano, Afran Islam e Nadim Saic. Successivamente a cura della Società Nazionale di Salvamento Presidenza Nazionale di Genova sono stati consegnati i diplomi di benemerenza al personale della Guardia Costiera di Palinuro, al loro nuovo comandante, il tenente di vascello Amalia Mugavero, una medaglia ricordo del centocinquantesimo anniversario della fondazione della società. Ai bagnini intervenuti nei soccorsi Giovanni Marsicano, Afran Islam e Nadim Saic sono state consegnate a cura della Società Nazionale di Salvamento Presidenza Nazionale di Genova medaglie di bronzo al merito con diploma e al coordinatore del progetto, nonché presidente della sezione SNS di Mantova medaglia d'argento al merito con diploma. Altri riconoscimenti sono stati dati al sindaco Ettore Liguori, al geometra Marcello Saturno, tecnico del Comune, con l'incarico di seguire il progetto per il mantenimento della bandiera blu, al dottore Alfonso Pace, direttore della sezione locale del salvamento, all'avvocato Francesco Russo, cerimoniere dell'iniziativa e a Cristian Greco, addetto stampa della salvamento. Una pregevole iniziativa quella della civica amministrazione pisciottana, importante attestato di gratitudine e riconoscimento per l'encomiabile lavoro svolto nell'ambito delle attività ammirate affronteggiare le situazioni di emergenza in mare e le importanti operazioni compiute quest'estate, traendo in salvo sette turisti con grande professionalità e prontezza, protagonisti anche i referenti del progetto SAI di Padula.